Ciao a tutti, bentornati e benvenuti qui su Fanatico Go Reloaded Oggi parleremo di Naya, che cos'era Naya? Per quelli che sono nati dopo gli anni 2000, probabilmente non lo sapranno nemmeno forse Si tratta della leva obbligatoria, sì perché prima c'era appunto la leva obbligatoria e tu eri costretto per un anno almeno, solo con l'obbligatoria, di fare militare in pratica Quindi parleremo di questa cosa perché si sta riparlando di una ripristinarla in qualche modo ma non se ne è fatto nulla fino ad ora e inoltre oltre a questo fatto di cronaca possiamo dire vorrei anche mettere in questo video la mia esperienza personale Quindi do la linea al video, grazie a tutti per la visione, alla prossima, ciao a tutti Tornare o non tornare al servizio di leva obbligatoria? È dal 2018 che se ne parla, dal primo governo Conte quando Matteo Salvini era ministro dell'interno Luigi Di Maio dello sviluppo economico e Elisabetta Trenta della difesa Quell'anno in Italia lo ricordiamo come l'anno del cambiamento perché per la prima volta nella storia un governo non veniva guidato da un partito di centro-sinistra come il PD o da Forza Italia Salvini nelle sue interviste parlava spesso di un ritorno alla leva obbligatoria per i giovani italiani anche se non era di sua competenza in quanto non ricopriva il ruolo di ministro della difesa ma dell'interno da cui dipendono polizia di stato e vigili del fuoco Queste sue affermazioni hanno diviso e ancora dividono l'opinione pubblica italiana sul ritorno alla leva obbligatoria C'è chi è ancora favorevole dicendo che il militare aiuta a crescere chi invece ritiene tale decisione una vera e propria stupitaggine e che bisogna investire in altri settori come la scuola o i servizi Molti cinquantenni come me che hanno trascorso il loro anno di Naya lo ricordano bene da un lato e male dall'altro perché, come ben ricordiamo, all'interno delle caserme si verificavano atti di nonnismo nei confronti delle nuove reclute facendo quello che noi definiamo nel linguaggio civile mobbing e portando le persone più fragili ad un vero e proprio esaurimento soprattutto nelle parti dei paracatutisti Quando nel 2000 il governo Amato II, in seguito all'approvazione del Parlamento affermò della sospensione del servizio di leva dal 1 gennaio 2005 molti giovani tirarono un sospiro di sollievo altri invece rimasero delusi da questa decisione Inutile negarlo, il militare aveva il suo lato negativo ossia un anno di reclusione in una o più caserme d'Italia privando il cittadino della libertà costringendolo alla convivenza con persone provenienti da diverse realtà della penisola come il piccolo paese e le estreme periferie metropolitane ma aveva anche i suoi lati positivi soprattutto per chi veniva dal sud zone dove c'erano meno possibilità di poter trovare un lavoro da civile e la naia poteva essere inizio di una carriera sicura firmando la permanenza nella forza armata invece che il congedo molti che hanno fatto questa scelta si sono ritenuti soddisfatti perché sono riusciti a sistemarsi e dopo l'anno di forza sono riusciti a trovare le loro sicurezze economiche potendo così costruire una vita migliore di quella precedente la cartolina rosa e di stringere vere amicizie voi invece cosa ne pensate? ora vi racconto il mio servizio di leva era il 1983 anno del primo governo Craxi e sulle neonate reti Mediaset che grazie all'accordo Craxi-Berlusconi diventeranno le prime televisioni private nazionali veniva trasmesso drive in uno show serale ideato da Antonio Ricci l'autore del celeberimo programma Striscia la notizia quell'anno ho ricevuto la fatidica cartolina rosa in seguito al superamento della visita di leva nella caserma di Viale Giulio Cesare a Roma ho dovuto prendere un traghetto per recarmi in Sardegna nella caserma a Gonzaga di Sassari per iniziare il CAR ovvero centro addestramento reclute beh, lo ricordo come se fosse ieri praticamente anche se sono passati quasi 40 anni sì, nel 1983 e diciamo che questi erano i famosi tre giorni della visita militare che ti voltavano come un pedalino era imbarazzante, sì, uno dei più imbarazzanti perché vai allo sbaraglio in una stazione enorme con almeno una cinquantina di ragazzi che si visitano insieme a te e che dovendo fare una visita completa in tutto e per tutto fra misurazioni, analisi, peso, altezza e altre cose rimanevamo come mamma ci ha fatto in pratica e quindi per me era molto imbarazzante perché all'epoca io ero più timido, molto più timido di adesso arrivato in caserma ho scoperto che le reclute in caso di partenza per le missioni internazionali sarebbero state formate per andare in Libano che nel 1983 si trovava in piena guerra che paura il primo mese a Sassari è stato duro io e gli altri ragazzi del mio gruppo eravamo le spine e i nonni ci avevano subito preso di mira gavettone e scherzi notturni durante i servizi di vigilanza ahimè i controlli non erano molti e molte cose si lasciavano passare ricordo ancora le camerate enormi con un po' stiletto a tre piani e tanta ma tanta gente dentro una sola stanza altro rituale a cui non si sfugge è l'aeroplanino ossia si sale sull'armadietto del nonno e si canta a squarciagola meno male che ho una bella voce finito il mese nel capoluogo sono stato destinato per il secondo mese a Tempio Pausania per formarmi sull'antincendio in entrambi le caserme si dormiva dalle 22 alle 5 e la libera uscita iniziava alle 17 ma è mimetica perché in caso di emergenza saremmo dovuti intervenire per aiutare i vigili del fuoco a spengere l'incendio finito anche il secondo mese sono stato destinato a Roma, la mia città presso l'aeroporto dell'Urbe sulla Salaria una piccola caserma con pochi militari perennemente operativa che ricordi anche se non posso negare di aver imparato a fare il mestiere del centralinista dalle 7 alle 17 con per notte a casa nei giorni in cui dormivo in caserma le ore di sonno erano pari a 4 a ripensarci mi viene solo che da sorridere non posso nasconderlo almeno durante il car la lontananza da casa si è fatta sentire ma sia lì che a Roma ho passato anche dei bei momenti anche se non era quella la vita che volevo almeno quell'anno in cui volevo ancora scrivere tante pagine della mia assistenza riguardo il nonnismo posso dire che nella capitale ne ho visti molti di più e anche lì mi è toccato il gavettone ma nulla di drammatico anzi in poco tempo sono diventato amico di tutti negli ultimi tre mesi anche io sono diventato un nonno ma dato che ormai ero vicino alla fine ho preferito rimanere sulle mie cercando di aiutare i nuovi ed evitare di esercitare i miei cosiddetti diritti di anzianità ora a distanza di quasi 38 anni posso dire che della leva apporto un bel ricordo un ricordo di un tempo lontano che purtroppo non tornerà più grazie a tutti per la visione e al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti